Quel venerdì sera Gordon era già a letto quasi addormentato. Era stata una settimana estenuante, conclusa con un bicchiere di vino insieme a sua moglie. Stava per entrare nel mondo dei sogni quando il suo telefono sul comodino trillò. C'era un nuovo messaggio. L'uomo borbottò. Non solo aveva dimenticato di mettere il telefono in silenzioso, ma aveva ancora la suoneria altissima da quella mattina. Aveva alzato il volume perché aspettava una chiamata importante dalla compagna che gli aveva venduto l'auto e da cui l'aveva appena lasciata per delle riparazioni. Ora dovevano ridargliela. Lui li aveva già chiamati tre volte e loro avevano promesso che sarebbe stata pronta a breve, ma non si erano più fatti sentire. Ed ora il suono della notifica sul suo telefono aveva quasi svegliato sua moglie. Gordon ha preso il telefono e ha sbattuto le palpebre assonnato. Però un nuovo messaggio su Whatsapp. L'uomo ha aperto il messaggio e i suoi occhi si sono illuminati improvvisamente. Era Ivy. Senza sentire più il sonno, Gordon ha tirato fuori le gambe da sotto la coperta il più silenziosamente possibile e si è messo le pantofole. Dove vai? Ha sussurrato sua moglie Sara, ma Gordon aveva la risposta pronta. In bagno. Dormi, non preoccuparti. Gordon è corso in bagno, ha chiuso a chiave la porta e ha aperto di nuovo il messaggio. Come va? Ha scritto velocemente. Sembrava una domanda innocua, ma in realtà nascondeva problemi e complicazioni di cui la povera Sara, addormentata tranquilla nel suo letto, non poteva avere idea. Ancora, almeno. Gordon aveva incontrato Ivy quattro giorni prima. Ivy era una ragazza bellissima e l'uomo ne era rimasto folgorato all'istante. Con Ivy tutto sembrava facile, una sensazione che Gordon non provava più da tempo con sua moglie Sara. Ivy sembrava quella giusta, la donna perfetta per lui, e Gordon era disposto a concludere il suo matrimonio all'istante per stare con lei. In pochi giorni, infatti, l'uomo confesso a sua moglie di essersi innamorato di un'altra persona e le disse che voleva il divorzio. Poi ha fatto le valigie e si è trasferito da Ivy, incurante di cosa si stesse lasciando alle spalle. Sara, dall'altra parte, era distrutta. Umiliata e ferita, ha bombardato suo marito per settimane con messaggi e chiamate, ma lui non ha mai risposto né a lei e alla sua famiglia, che ha fatto lo stesso. L'uomo ha evitato ogni contatto con il suo passato, convinto che con Ivy, al suo fianco, tutto si sarebbe sistemato. E dopo circa un mese, le acque sembravano essersi calmate e Gordon è tornato a respirare. Si è goduto la sua nuova vita con Ivy per qualche giorno, poi ha cominciato a sentire la mancanza dei suoi figli. Ha provato a telefonargli ed è stato allora che ha ricevuto lo stesso trattamento che lui aveva prima riservato a loro e alla loro madre. Con Ivy tutto sembrava perfetto, ma Gordon aveva perso i suoi figli. L'unico che ogni tanto gli rispondeva era David, il più grande, ma le conversazioni con lui si limitavano a brevi e scostanti risposte monosillabiche. Poi, un giorno Gordon vide sua moglie e il suo figlio più piccolo al supermercato. Sembravano tranquilli, ma non lo notarono e Gordon non osò avvicinarsi. Un paio di giorni dopo tornò a casa e Ivy lo aspettava arraggiante con una lettera tra le mani. «È del tribunale! C'è la data della sentenza del divorzio!» disse lei euforica. «Oh Gordon, sono così felice che tu abbia finalmente deciso di divorziare da tua moglie!» Gordon abbozzò un sorriso e lesse la lettera. La lesse più e più volte, incredulo. L'udienza era prevista per un pomeriggio di ottobre, tra pochi giorni, ma lui non aveva chiesto il divorzio come aveva promesso. Era stata Sarah. Ivy era arraggiante, aprì una bottiglia di champagne per festeggiare e aveva comprato persino una torta, ma Gordon era riluttante e il pomeriggio dell'udienza, quando vide sua moglie in aula, rimase ancora più perplesso. Sarah sembrava serena ed era bellissima avvolta nel suo vestito blu che aveva scelto per l'occasione. L'udienza fu veloce e finì in fretta, ma il giudice disse a Gordon e Sarah che si sarebbero rivisti tra un mese, quando loro avrebbero deciso come accordarsi per la custodia dei figli. Uscito dal tribunale, Gordon aspettò sua moglie fuori e la invitò a prendere un caffè per parlare e organizzarsi, e lei accettò. Al bar, tuttavia, i due non parlarono del loro divorzio, dei figli o del mantenimento. Ricordarono i loro giorni felici insieme, come quando, una sera tornati dal lavoro, erano troppo stanchi per preparare la cena e hanno ordinato del pollo alla griglia da mangiare freddo sul pavimento del salotto. All'epoca non avevano nemmeno un tavolo in salotto, non potevano permetterselo. Hanno ricordato la loro bellissima luna di miele in giro per l'Europa e della paura che hanno avuto quando è nato il piccolo David, prematuro e malato. Hanno sospirato ricordando di come i medici gli avevano detto di non affezionarsi troppo al neonato perché probabilmente non sarebbe sopravvissuto, e hanno pianto dalla gioia pensando a quanto si erano sentiti grati e felici quando il bambino aveva dimostrato a tutti che si sbagliavano. Si sono salutati con l'amaro in bocca, e quando Gordon è tornato a casa, Ivy aveva di nuovo aperto la bottiglia di champagne ed era pronta a festeggiare. Tre giorni dopo, Gordon ha scritto di nuovo a Sarah proponendole di incontrarsi di nuovo. Lui aveva proposto il fine settimana, ma Sarah aveva altri programmi, programmi che Gordon ha ascoltato in silenzio con il morale a terra. Alla fine hanno deciso di incontrarsi un altro giorno. Gordon ha mentito ad Ivy su dove stesse andando e si è diretto da Sarah felice con un grande mazzo di fiori. A pochi minuti dall'appuntamento, tuttavia, Sarah lo ha piantato in asso con un messaggio in cui si scusava e proponeva di vedersi l'indomani alla stessa ora. Gordon era ferito e non riusciva nemmeno lui a capire il perché. Il giorno seguente comprò di nuovo dei fiori e incontrò Sarah. Anche questa volta non parlarono del divorzio, anzi, si avvicinarono un po' di più. Cominciarono a vedersi sempre più spesso, sempre senza dire niente ad Ivy e i due quasi ex coniugi diventarono improvvisamente amanti. Gordon era sorpreso. Non si era mai trovato così bene con Sarah quando stavano insieme, non si era mai trovato così bene nemmeno con Ivy, la donna per cui non aveva esitato un solo istante a lasciare Sarah. Le faceva bellissimi e costosi regali e sentiva ad innamorarsi di più di lei ogni minuto che passavano insieme, mentre litigava sempre più spesso con Ivy, ignara di tutto. Dopo un mese era quasi arrivato il giorno di tornare in aula. Sarah era ancora convinta che si sarebbe presentata in tribunale lì, orgogliosa e fiera, sembrava che non avesse cambiato idea sul divorzio. Gordon invece lasciò Ivy, spiegandole che sarebbe tornato da sua moglie. Ivy lo insultò e pianse e si disperò, ma Gordon restò impassibile. Era sicuro che tra lui e Sarah si fosse sistemato tutto e che ora avrebbero finalmente potuto vivere una vita felice insieme. «Torna da tua moglie, certo!» urlava intanto Ivy. «Sei un povero illuso se pensi che ti voglia ancora! Come farà a vivere con te ora che sa che schifo di uomo sei!» Cacciato da Ivy, Gordon tornò da Sarah. Bussò al campanello più volte, ma nessuno gli aprì. Provò ad entrare, ma scoprì che Sarah aveva fatto cambiare la serratura della porta. Quando finalmente la incontrò, restò deluso nel vederla a calma, mentre le raccontava di come avesse lasciato Ivy ed ora non aveva più posto in cui vivere. Sarah era ancora decisa a divorziare e questo spiazzò Gordon che si aspettava invece che sua moglie lo avrebbe riaccolto a braccia aperte. «Mi dispiace che tu non abbia più una casa, Gordon, ma questa è solo una delle conseguenze delle tue stesse azioni», disse Sarah con tono glaciale. «Non gli avrebbe mai dato la nuova chiave di casa. Avrebbero sistemato tutto quando il tribunale avrebbe diviso le loro proprietà». Deluso e amareggiato, Gordon dovette andare a stare in un ostello alla periferia della città, l'unico tetto sopra la testa che poteva permettersi. Pochi giorni dopo, in tribunale, il divorzio da Sarah fu ultimato e Gordon restò senza più niente. Non aveva sua moglie, non aveva Ivy, non aveva i suoi figli e non aveva la sua casa. Aveva solo una macchina, un garage e un appezzamento di terreno. Tuttavia, quei mesi lontano dalla sua famiglia avevano fatto capire a Gordon quanto fosse stato sciocco a darli per scontato e lasciarli, ed era sicuro che prima o poi li avrebbe riconquistati. Ci è voluto più di un anno per farsi accettare di nuovo dai suoi figli e dalla sua ex moglie, ma alla fine ci riuscì e presto le cose tornarono come prima. Gordon si trasferì di nuovo a casa sua e lui e Sarah ripresero in mano il loro rapporto, pronti a lavorarci su. Una notte, mentre era in bagno e Sarah dormiva nel loro letto, Gordon ricevette un messaggio da Ivy. Sorrise. Ora che aveva finalmente sistemato tutto, gli restava solo un'ultima cosa da fare, bloccare il numero della sua ex amante. Quando tornò nel letto da sua moglie, si addormentò felice e pieno di speranze per il futuro. Amava veramente Sarah ed era disposto a lavorare insieme a lei ogni giorno per poter continuare ad averla al suo fianco. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili. Grazie. Grazie. Grazie.